Sono molto arrabbiata, dice questa donna, anche io sono molto arrabbiata, quando l'altro giorno ho visto questi dati, a dicembre scorso 101.000 posti di lavoro in meno, di cui 99.000 sono donne, il 98% del totale, vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Le donne stanno pagando un prezzo altissimo, altissimo, e non solo sul lavoro, ma dentro casa, con i figli che fanno la DAD, con i genitori anziani, con tutti i problemi di cura, questa parola cura, che sembra una parola lontana dal nostro vocabolario, abbiamo capito che è la parola, ma tornando a noi, caro Antonio...